Buongiorno a tutti, grazie come sempre della vostra presenza. Un grazie anche a chi ha partecipato venerdì alla nostra iniziativa Ama il tuo cuore che è andata super bene. Grazie ai nostri sponsor Compagnia San Paolo, Fondazione CRT Comune, oggi in particolar modo alla Clinica Fornaca che da sempre ci sopporta ed ha permesso che questa iniziativa oggi fosse organizzata. All'Associazione Educazione, Prevenzione e Salute che da sempre le organizza, a tutti i nostri medici che vengono spontaneamente e gratuitamente. Grazie anche a Rete7 che come ben sapete ormai il giovedì e la domenica dalle 10 a mezzogiorno li ritrasmette sul canale 12 della nostra televisione. Oggi è un tema molto importante e credo che sia un po' uno spauracchio per tutte noi donne. Il seno, stili di vita, prevenzione e trattamento. A parlarcene saranno il dottor Riccardo Bussone che è un chirurgo e un senologo già Città della Salute ora al Cotolengo. La dottoressa Rosalba Galetti della Città della Salute, la dottoressa Greta Gris chirurgo plastico del Cotolengo. La dottoressa Giovanna Mariscotti radiologa della clinica Fornaca assieme anche al dottor Bussone. Dopo, come sempre, potete fare tutte le domande che volete. I nostri medici saranno a vostra disposizione. Grazie, buon ascolto. Vi ricordo solo che martedì non ci sarà la conferenza perché festeggeremo tutti il carnevale. Grazie e buon pomeriggio. La parola al dottor Bussone. Grazie Katia. Ha già presentato i vari relatori Katia Fonsatti. Io voglio solo dirvi questo. Utilizziamo questa mattina per fare tutte le domande che vogliamo fare per toglierci, se saremo in grado noi di farlo, dei dubbi e di non aver paura di parlare di tumore della mammella. Perché se è vero che ogni anno 50.000 donne si ammalano di tumore della mammella, è anche vero che il 90-95% guarisce. E quindi un evento ovviamente sfavorevole e drammatico non deve far perdere quelli che sono i nostri obiettivi di vita, in primis di guarigione e poi soprattutto di proiettare, di fare dei progetti. Ha già presentati Katia. Io direi che le relazioni non saranno, credo, lunghissime proprio per lasciare spazio il più possibile a un dibattito delle domande. Non abbiate paura di fare qualunque tipo di domanda. Lo so perché quando sono stato dall'altra parte avevo sempre paura di fare delle domande stupide. Non ci sono domande stupide. Do la parola a Rosalba Galletti che parlerà di prevenzione, stili di vita, alimentazione. Buongiorno a tutti. Come mi ha già presentato sono dietologa delle Molinette della Città della Salute e lavoro spesso anche in Fornac, ovviamente per quanto riguarda la parte dietologica. Parliamo di stile di vita. Perché stile di vita? Perché quando parliamo di alimentazione parliamo anche di un modo di vivere, di un comportamento alimentare, ma anche di quello che riguarda l'attività fisica, il movimento. Quindi come bisogna vivere tutta la vita, non solo quando ci ammaliamo, ma proprio in prevenzione della malattia stessa. E quello che, come vedete, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha grandissimi studi, eccetera, cosa fanno vedere? Che il modo di alimentarsi in realtà è molto correlato alle malattie. Non solo la malattia tumorale di cui parliamo oggi, ma le malattie in genere. Quindi prevenzione e mangiare bene sono due compagni importanti della nostra vita. Ci sono delle comportamenti che possono essere, diciamo, dannosi, pericolosi e comunque da controllare, che sono ovviamente la sedentarietà, l'obesità e il sovrappeso, di cui ne parliamo magari un pochettino più attentamente, e alcune cosiddette abitudini voluttuari, cioè l'alcol, il bere qualcosa di in più, il fumo, che ne parliamo tanto e quasi ce ne disinteressiamo, in realtà purtroppo è un fattore di rischio effettivamente molto importante. Quindi ci sono fattori di rischio che noi non possiamo modificare e quello ci arriva dalla nostra genetica, purtroppo dalla familiarità di alcune patologie, anche e soprattutto quelle tumorali, dall'etnia, dal sesso, eccetera, ma ce ne sono alcuni in cui noi possiamo lavorarci, dobbiamo imparare a saperli gestire, che sono le abitudini comportamentali, e i fattori ambientali, cioè conoscere anche l'ambiente dove noi viviamo, come vedete noi viviamo in un paese industrializzato, in cui purtroppo ci influenza molto non solo il nostro modo di vivere, ma anche quello che noi mangiamo, come viene prodotto, tutto l'inquinamento, quindi siamo una popolazione comunque molto più a rischio rispetto magari a cento anni fa. E' inutile negarlo questo. Per cui bisogna anche sensibilizzare un po', e noi siamo qui in questo contesto, ma anche in generale, il fatto che educare la popolazione e sensibilizzarla su questi problemi può diventare vera e propria prevenzione. Questo è un lavoro, vi ho citato questo lavoro negli Stati Uniti, in cui facevano vedere come l'aumentato rischio di patologia tumorale era molto correlato col sovratteso, con l'obesità. Purtroppo l'obesità è un grosso problema, è un grosso problema per tante malattie e anche e soprattutto anche per il tumore. La cosa che spaventava molto in questo studio molto grosso era che soltanto il 50% di queste persone in sovrappesa e obese avevano la consapevolezza del problema. E questo era ancora più grave, non solo non sapevano come comportarsi, ma non ne ritenevano neanche che fosse un fattore di rischio. In realtà però cosa vedete a destra? Perché se noi abbiamo uno stile di vita sano riusciamo a prevenire circa un terzo dei tumori, quindi quello di alimentarsi in modo corretto è sicuramente una via importante da seguire. E qual è uno stile di vita corretto? Poche cose, è molto semplice, è una specie di decalogo, in cui vuol dire mangiare in modo più sano, quindi mangiare più fibre, mangiare cereali integrali, ridurre la quantità di carne, ridurre il sale perché è associato anche ad altre malattie, ridurre gli zuccheri e il rapido assorbimento, mantenere un peso corretto, non fumare e fare molta, o almeno quella possibile, attività fisica, ridurre l'alcol e non esporsi al sole. Ve li ho allencati, se poi avremo tempo potremo, e qualcuno è più interessato, potremo entrare più nello specifico. Parliamo del sovrappeso obesità, che questo è veramente una cosa importante. A quando siete da casa, misuratevi la vita, se voi avete una vita superiore a 80 centimetri, cominciate a pensare che dovete fare qualcosa. Questo perché? Perché si è visto che la diposità localizzata, soprattutto a livello centrale, è quella correlata al maggiore fattore di rischio dal punto di vista clinico. Questo perché è un tessuto diposo che produce, è un vero e proprio organo endocrino, quel tessuto diposo bianco, produce ormoni, e produce ormoni che non sono favorevoli alla nostra salute. Quindi bisogna ridurre l'adipe, quindi dimagrire. Il fatto che una persona sia in sovrappeso obesa porta ad un aumentato rischio di malattie generiche, che tutti noi sappiamo, vuoi l'ipertensione, cardiopatie ischemiche, patologie cardiovascolari, respiratorie e anche patologie tumorali. Questa l'ho portata perché, al di là del quadro di Botero, che fa sempre un po' sorridere, ma è divertente, ma non è una persona sana quella lì, Berrino diceva che noi siamo un po' quello che mangiamo e soprattutto dobbiamo evitare gli alimenti cosiddetti della dieta occidentale, ricchi di grassi, ricchi di zuccheri, rapido assorbimento, e aumentare invece un po' quello che erano un po' il cibo dei nostri vecchi, quindi aumentare le cereali integrali, si ritorna a mangiare il pane nero. Mi ricordo mia nonna che mi raccontava che dopo la guerra mangiare il pane bianco era un lusso. Noi siamo girati al contrario adesso, è un lusso mangiare il pane scuro, siamo tornati a avere una tendenza più primordiale. Fa ridere, però è una realtà questa. quindi quali sono queste regole importanti? Vi ho citato questo documento perché si trova anche online, lo Smartwood, è un documento che è stato estrapolato, diciamo così, dalle raccomandazioni del Fondo Mondiale Ricerca sul Cancro, in cui ha tradotto in italiano, quindi più facile anche da leggere, in cui ci sono questo decalogo di regole che vi ho un pochettino allencato precedentemente, che sono un po' riassunto del saper vivere bene per prevenire le malattie e anche per curarle. Nello stile di vita ricordiamoci che anche l'alcol ha una sua valenza. Certe volte noi siamo in un stato che abbiamo il vino, lo produciamo, è anche ottimo, il discorso è la quantità, non viene eliminato, bisogna però quantizzarlo. Ricordiamoci che al massimo per noi donne, purtroppo siamo un po' svantaggiate rispetto ai maschietti, al massimo può essere un bicchiere di vino e non due o tre, ma non un bicchiere di pasto, un bicchiere al giorno e quindi non è tantissimo perché l'alcol in realtà produce tutta una serie di relazioni chimiche che non sono anche lì molto favorevoli alla nostra salute, non solo a livello epatico, ma anche per uno stato infiammatorio che può portare a una sequela di conseguenze negative. Quindi la base della nostra alimentazione è questa, è la dieta mediterranea, in cui vedete che alla base stanno tutti gli alimenti a maggior valore integrale, con più fibre perché permettono anche una migliore digestione e vedremo poi anche un migliore microbiota, poi vi parlerò anche di questo, e soprattutto con una buona quota di verdure e frutta, le famose cinque porzioni che si legge ovunque, però le cinque porzioni sono tre di verdure e solo due di frutta. La frutta non va mangiata tanto perché molto spesso i pazienti mi raccontano mangio tanta frutta, ma non è una cosa positiva, la frutta è ricca di zucchero, per cui non è comunque un alimento così favorevole alla nostra salute. E alla punta, come vedete, sono le proteine animali, quindi la carne, le uova, il formaggio, che devono essere quantizzati in piccola quantità rispetto agli altri alimenti. Quindi c'è proprio una regolazione della nostra alimentazione che è correlata ad uno stato migliore, è diventata patrimonio dell'UNESCO, la dieta mediterranea. Noi non parliamo di dieta, parliamo di comportamento alimentare, non è una dieta, perché se uno per esempio usasse otto cucchiai di olio, come minimo diventò beso, quindi non è una dieta, è un modo di mangiare. E la chiamiamo anche dieta anti-infiammatoria, perché il mangiare in quel modo, il mangiare più verdure, più fibre, porta a una serie, a introdurre una serie di sostanze, che sono cosiddetti flavonoidi, antiossidanti, che migliorano allo stato di salute. Quindi questi nomi particolari, lindoli, fitosteroli, sono quasi, hanno una valenza terapeutica, sono sostanze fitochimiche, si trovano normalmente nella nostra verdura e frutta, a patto che sia verdura e frutta, però, di stagione, che sia coltivata in un certo modo, in pratica, noi sappiamo e conosciamo quello che mangiamo, che non è semplicissimo, eh, ve lo dico. Microbiota, volevo fare solo un accento velocissimo, se mi consentite, ditemi quando devo smettere, eh, che cos'è il microbiota? Se ne parla tanto, molti probabilmente lo sanno già, noi abbiamo un super organo, i batteri che sono nel nostro intestino, nel tratto gastroenterico, non è inerte, ma collabora e condivide le nostre malattie, addirittura, alcune volte si pensa che le producono addirittura, quindi va gestito e va curato, e bisogna cercare, che non, bisogna fare in modo che non sia un microbiota infiammato. Questo è molto correlato alle alimentazioni, le abitudini alimentari sicuramente ne influenzano e bisogna tenere conto che nella donna, per esempio, in questo caso, nel tumore della mammella, si è visto da studi che il microbiota è alterato, le popolazioni che fanno parte del microbiota sono meno, sono più infiammate, quindi, purtroppo, dobbiamo gestire anche questa problematica usando anche qui, non solo con l'alimentazione, ma anche supportando con dei fila più favorevoli alla salute. Attività fisica, ultima e non ultima, ma importantissima, è muoversi, impariamo a muoverci, dovremmo averlo già imparato durante la nostra vita, ma se non l'abbiamo fatto non è mai troppo tardi, come si dice, quindi sfruttiamo il fatto di camminare quando è possibile, di evitare di usare la macchina, dico di andare in palestra, a certe volte le persone che non sono mai andate in palestra non andranno mai, ma non c'è bisogno di andare, come dico molto spesso le persone, basta camminare, fare una passeggiata, ricordatevi però che sia almeno di 30 minuti, se la fate tutti i giorni, ossia addirittura di 50-60 minuti almeno tre volte alla settimana, però il movimento è alla base anche questo della salute. Quindi ci sono attività diverse, come vedete, possono avere un valore, un dispendio calorico, e anche un utilizzo diciamo delle nostre capacità radiovascolari, per cui bisogna anche stare attento e approcciarsi in maniera corretta, sapendo anche le proprie capacità, ma fatelo assolutamente. Questa era carina questa foto perché faceva vedere dal verde verso il rosso il consumo calorico, non è tanto importante comunque il consumo calorico, è importante fare attività fisica per lungo tempo. Io dico solo che non è la fatica, non è il sudore, ma è il tempo, la durata, 50-60 minuti di una passeggiata anche lenta, è assolutamente utile, non c'è bisogno di fare pesi o andare in palestra, ma assolutamente farlo. Non ultimo, questo era un lavoro bellissimo che ho solo citato, è anche un po' vecchiotto, ma comunque viene confermato anche attualmente, che fare attività fisica nelle pazienti con tumore mammella riduceva del 30-40% il rischio di recidiva e mortalità, questo per dare un ulteriore valore a quello che ho appena detto. Non ultimo, penso che lo citerà qualcun altro sull'allattamento, adesso fa parte delle nuove linee guida del VCRF, quello di allattare, lo dico magari che ha anche figli, che comunque dia questo messaggio, l'allattamento al seno è importantissimo, non solo per il bimbo, ma anche per la madre, perché è un fattore di prevenzione, quindi allattare per almeno se possibile sei mesi crea un fattore di protezione per la madre. Direi che concludo qui, perché il tempo è quello che è, per dare in modo anche agli altri di dire la loro relazione, comunque le cose che vorrei che passassero sono alimentazione corretta, l'ho detto molto generico, perché purtroppo non abbiamo il tempo adesso, mangiare, sapendo e conoscendo quello che mangiare, evitare cibi spazzatura, evitare soprattutto cibi confezionati o precucinati e a fare attività fisica e sicuramente le due concetti importanti che vorrei che passassero in questa sala. Grazie. Per quanto concerne la mortalità, secondo il registro tumori, il tumore mammario è la prima causa di morte per la patologia oncologica nelle donne. A questo punto introduciamo la prevenzione. Non vi parlo di prevenzione primaria che è un obiettivo individuare i fattori di rischio che vi ha già parlato la dottoressa Galletti, ma vi parlerò di prevenzione secondaria che è il nostro campo, noi che ci occupiamo di diagnostica senologica e il cui obiettivo è la diagnosi precoce. Ora, dove dobbiamo intervenire? Sicuramente dobbiamo intervenire su quelle lesioni che sono molto care ai nostri anatomi patologi, alla professoressa Sapino in particolare, che sono le lesioni proliferative a rischio che sono considerate quelli che sono i precursori non obbligati delle forme invasive. Cosa vuol dire? Vuol dire che dalla letteratura non sono queste forme, non sono sicuramente al 100% che diventeranno dei tumori invasivi, ma di queste sono quando ricevete una diagnosi di iperplasia duttale atipico di neoplasia lobulare con i nostri prelievi c'è da soffermarsi e da discutere. Poi sicuramente il punto dove dobbiamo gire sono i carcinobi duttali in situ che sono le forme iniziali per giungere a quelle che sono le lesioni invasive infracliniche quindi al di sotto di un centimetro e quelle che nel dottor Bussone e nella sottoscritta riusciamo a palpare. Quindi anticipazione diagnostica cosa significa? Riduzione della mortalità meno ricidive meno metastasi e soprattutto permettere al chirurgo e al chirurgo plastico una terapia conservativa meno mastectomie o interventi invasivi. Quindi una migliore qualità di vita. ma andiamo a vedere quali sono gli strumenti che noi abbiamo a disposizione per questa diagnosi precoce. Sicuramente il primo il primo test fondamentale irrinunciabile a qualsiasi età specialmente quando c'è un sospetto di patologia è la mammografia. La mammografia digitale associata o no all'ecografia che sono indagini di primo livello. Seguono le indagini di secondo livello che sono rappresentate dalla gobiosia e dalla risonanza magnetica. Ora come dove dobbiamo come possiamo farla questa mammografia? La mammografia può essere fatta nei programmi di screening nazionali ed è rivolta alle donne asintomatiche ossia donne che sono sane e che vanno a fare questo test di screening di prevenzione. Oppure l'altro percorso è la diagnostica clinica senologica alla quale si rivolgono sia le donne per screening volontario mandate dal proprio ginecologo dal proprio medico curante e soprattutto le donne sintomatiche donne sintomatiche ossia quelle che si scoprono di avere un nodino una retrazione del capezzolo una secrezione o a volte anche soltanto per dolore. Entrambe la mammografia sia nello screening che nella neostica clinica utilizzano la stessa modalità ossia le classiche quattro proiezioni eseguite da un tecnico di radiologia dedicato preparato che darà una determinata compressione sulla mammella e questo perché con questa compressione si viene a ridurre lo spessore della mammella quindi arriva a meno dose al parenchima della mammella e si ottiene una migliore uniformità del parenchima mammario. Sicuramente questa compressione non è condivisa da tutte le donne alcune l'accettano altre invece la considerano molto dolorosa quindi bisogna essere molto attenti quando si comprime ma andiamo a vedere adesso cosa ci deve dare la mammografia ossia questa la sensibilità di questo test nel riconoscere la patologia vi porto due esempi il primo il primo esempio questo è una mammella completamente adiposa ossia una mammella quella che noi definiamo radiotrasparente con pochissima ghiandola e in questo caso risulta essere molto facile riconoscere questa piccola focalità che poi è un tumore del diametro di 6 mm circa quindi che si evidenzia molto bene e quindi non è difficile quindi non difficile da diagnosticare e la sensibilità della mammografia è estremamente elevata ma andiamo nell'altra immagine invece questa è un'immagine con un bel punto interrogativo ossia è una mammella quella che noi definiamo densa cosa vuol dire densa densa vuol dire che non ha più tessuto diposo che ha poco tessuto diposo ma tanta ghiandola tanta radiopacità tanta densa tanto densa ed è difficile in questo caso cercare di trovare cercare di individuare delle piccole lesioni come nell'immagine precedente quindi i limiti della mammografia sono la mammella densa e questa mammella densa è più evidente soprattutto nella donna giovane la donna in premenopausa anche se noi nella nostra attività rutinaria stiamo vedendo anche donne dai 50 anni in avanti già in menopausa che hanno questo tipo di mammella quindi di qui la necessità di introdurre qualche cosa che ci aiuti che ci aiuti di più nella nostra diagnosi e sicuramente la tomosintesi che è una mammografia tridimensionale l'evoluzione della mammografia digitale che ci permette di ridurre i problemi che derivano dalla densità strutturale una riduzione del mascheramento delle lesioni e quindi una migliore visualizzazione dei margini della lesione per avere più confidenza dire questa è una lesione benigna questa è una lesione sospetta questa è una lesione maligna in queste tre immagini vi posso sono tre esempi di tumori quelli che noi troviamo con la mammografia prevalentemente con la tomosintesi che sono un'immagine distorsiva un'immagine di micro calcificazioni un'immagine di opacità che sono a margini irregolari come purtroppo una buona parte delle donne riceve nel referto e quindi queste sono le immagini a quali noi facciamo riferimento ma la mammografia e l'ecografia ma la mammografia sia in digitale sia in tomosintesi hanno ancora bisogno di un supporto per migliorare e qui entra nel capitolo l'ecografia l'ecografia perché perché va a caratterizzare praticamente le lesioni che noi vediamo in mammografia e in tomosintesi poi molto molto importante per lo studio dei linfonodi dei cavi ascellari quando c'è una patologia conclamata lo studio degli impianti protesici e la guida al prelievo gobioptico però ricordiamoci che assolutamente non può essere considerato un test di screening non può sostituire la mammografia soprattutto in una donna dai 40 anni in giù è soltanto un esame complementare aiuta alla diagnosi ma non permette di lavorare da sola poi l'altra metodica sempre la metodica di secondo livello è rappresentata dalla risonanza mammaria che ha delle indicazioni le indicazioni principali sono la stadiazione locale pretrattamento chirurgico e cosa intendo intendo quando c'è una patologia conclamata dobbiamo fornire al chirurgo tutte le indicazioni riguardo la sua estensione i rapporti che hanno che questa lesione ha con la cute con il capezzolo e in profondità poi l'indicazione è nella sorveglianza delle donne ad alto rischio ed intendo soprattutto le donne con una mutazione genetica prevalentemente il BRCA 1 e 2 la valutazione della risposta del tumore alla chemioterapia neodiuvantis quindi la riduzione di questa vedere se la lesione si riduce in corso di chemioterapia neodiuvanti per poterla poi portare all'intervento chirurgico anche qui la risonanza non è una metodica che deve lavorare da sola ma deve essere sempre considerata in un completamento diagnostico multimodale quindi mammografia ecografia agobiossia RM entriamo appunto nelle metodiche di secondo livello che sono le agobiossie percutanee le quali ci permettono di fornire la diagnosi della natura e con i nostri prelievi importanti bene consistenti permettiamo all'anatomo patologo di differenziare fra quella che è una forma in situ è una forma infiltrante e soprattutto mediante indagini di immunohistochimica fornire i marker biologici prognostici più importanti che sono l'indice di proliferazione e l'assetto ricettoreale prima dell'intervento chirurgico e questi sono indispensabili in caso di chemioterapia neodiovante per quanto concerne questa agobiossia noi le possiamo fare eseguire sotto guida ecografica per tutte le lesioni che sono visibili ecograficamente sottoguida stereotassica se sono microcalcificazioni o distorsioni che si vedono solo con la mammografia oppure per ultimo sottoguida RM quando le lesioni non sono visibili con le altre metodiche concludo quindi gli obiettivi della diagnostica senologica sono di individuare precocemente i segni minimi di tumori caratterizzare le lesioni mediante agobiopsie mini invasivi una corretta pianificazione del trattamento chirurgico conservativo o non conservativo e il follow up delle donne operate ma il punto fondamentale è che per raggiungere questo obiettivo bisogna fare squadra quindi un team multidisciplinare di più professionisti che ruotano intorno alla donna che in quel momento è ammalata grazie grazie alla dottoressa Mariscotti anche per la passione che mette sempre quando parla di radiologia che ha tirato in ballo il team e in particolare nella fase di diagnostica non c'è solo il radiologo ma c'è soprattutto e anche l'anatopatologo e qui in sala ce n'è uno che non so se ci verrà strappato dai suoi vetrini e dalle sue cose da fare che il dottor Torchio se si fermerà sicuramente potrà dare delle risposte e con questo non puoi più andare via Bruno è là è là è là e ha detto anche un'altra cosa secondo me molto molto importante è che bisogna affidarsi a degli specialisti dedicati e il radiologo che fa bene le rex del torace o fa bene l'ecografia non necessariamente interpreta bene una mammografia o un'ecografia mammaria e quindi ci vuole una certa educazione anche a seguire specialisti che siano nel campo dedicati ma allora abbiamo fatto la prevenzione alimentare fisica abbiamo parlato di radiologia e di anatomia patologica se succede che dobbiamo essere curati per un tumore della mammella allora bisogna parlare anche con il chirurgo e la dottoressa Grilze è chirurgo senologo e chirurgo plastico e quindi rappresenta una delle figure che in futuro dovranno essere il più possibile implementate perché bisogna conoscere di tecniche oncologiche ma anche di tecniche ricostruttive si cerca ovviamente di poter seguire la paziente con un'equipe unica che sia in grado di proporre un trattamento completo se possibile anche solo in un solo intervento chirurgico ma ora vediamo qual è stata l'evoluzione della chirurgia facciamo un cenno di anatomia una mini lezione di anatomia tanto per capire come è strutturata la ghiandola mammaria è ricoperta da cute come sappiamo il capezzolo è una parte fondamentale perché è proprio l'apice della piramide della ghiandola mammaria abbiamo poi sotto la cute la ghiandola che è formata da 15-20 lobi immersi nel tessuto adiposo ciascuno dei quali ha un proprio dotto che va proprio a sfociare all'interno del capezzolo la ghiandola mammaria è appoggiata ancorata sul muscolo gran pettorale sotto il muscolo gran pettorale abbiamo il muscolo piccolo pettorale e nella zona che dai muscoli pettorali va verso la scella abbiamo tutto il distretto linfonodale che è una parte anatomica molto importante per il trattamento della patologia mammaria che cosa è successo alla chirurgia della mammella nell'ultimo secolo una volta per trattare il tumore della mammella si era molto aggressivi quindi oltre alla ghiandola mammaria venivano tolti i muscoli quindi grande pettorale piccolo pettorale tutti i linfonodi quindi con un impatto su quello che era la vita successiva della paziente decisamente importante perché aveva anche a parte una ripercussione dal punto di vista sicuramente della figura corporea anche un impatto su quello che poteva essere la ripresa dell'attività funzionale di tutti i giorni quindi l'attività l'utilizzo del braccio c'è stato quindi via via ci sono stati degli studi che hanno portato a effettuare delle mastectomie sempre meno radicali quindi con la conservazione dei muscoli fino ad arrivare ai trial che ha portato avanti il professor Veronesi che hanno permesso di evidenziare che una chirurgia conservativa quindi che permetteva di conservare la parte della mammella sana associata a radioterapia poteva darmi una una garanzia di risultato in termini di sopravvivenza e di sopravvivenza libera da malattia paragonabile a quello che era la mastectomia le mastectomie che comunque rappresentano ancora oggi il 25% degli interventi chirurgici sono sempre più conservative e dopo vi spiegherò che cosa vuol dire mastectomia conservativa oggi siamo arrivati ad effettuare il 75% degli interventi sono degli interventi conservativi in cui viene tolto solo ed esclusivamente la parte malata della mammella con una quota di tessuto sano intorno che serve proprio all'anatomo patologo per darci dei margini liberi perciò per dirci sull'esame istrologico definitivo si hai tolto tutto stai tranquillo il 25% invece degli interventi continuano ad essere delle mastectomie conservative cosa vuol dire mastectomia conservativa allora la prima mastectomia la mastectomia skin sparing mi permette di conservare l'involucro cutaneo il mantello cutaneo la mastectomia nipple sparing invece mi permette di conservare oltre alla cute anche il complesso eralacapezzolo che ha un impatto su quello che è la parte ricostruttiva finale e il risultato estetico molto importante e poi c'è ancora vedete ancora scritta la mastectomia risk reducing che è una mastectomia di ultimissima generazione che viene effettuata su quelle mammelle che hanno un volume molto importante e quindi con delle tecniche di chirurgia plastica che vengono utilizzate normalmente per gli interventi di riduzione del seno noi utilizzando queste tecniche riusciamo a portare a casa un doppio risultato quindi ridurre il volume della mammella e andare a togliere tutta la parte oncologica che ci interessa le mastectomie oggigiorno sono sempre associate alla ricostruzione quindi non si lascia più la donna mutilata si propone sempre una ricostruzione come facciamo a scegliere il tipo di intervento allora avete sicuramente notato che nelle relazioni delle colleghe precedenti hanno sempre citato una collaborazione tra i vari specialisti infatti anche noi chirurghi ci parliamo costantemente con i radiologi per capire esattamente dove è localizzata la lesione quanto è grossa è la lesione quanto è grossa è la lesione in rapporto al volume della mammella perché una lesione di due centimetri su una mammella prima non sarà trattata allo stesso modo rispetto ad una lesione di due centimetri su una taglia sesta quindi è molto importante l'interazione con il radiologo dobbiamo capire se questa lesione è unica oppure se ci sono altre lesioni associate alla principale ed è fondamentale anche le caratteristiche e il tipo istologico che ci vengono fornite dalla biopsia che la dottoressa Mariscotti effettua sulle lesioni che ritiene sospette e questo ci permette di pianificare quello che potrà essere il trattamento successivo che può prevedere una chirurgia subito oppure in alcuni casi una chemioterapia neoadjuvante quindi prima una chemioterapia e successivamente il trattamento chirurgico però dobbiamo anche tenere in considerazione come è fatta la mammella della nostra paziente che abbiamo davanti quindi le dimensioni la taglia del reggiseno il grado di iptosi cioè quanto la mammella è caduta per l'invecchiamento per la forza di gravità se ci sono della presenza di assimetrie preesistenti oppure se la paziente è già stata sottoposta ad interventi chirurgici e quindi sono già presenti delle cicatrici che vanno comunque tenute in considerazione e ovviamente le caratteristiche della paziente quindi l'età perché verranno proposti ovviamente delle chirurgie diverse anche compatibilmente con quello che è lo stato della paziente quindi se ci sono delle patologie preesistenti presenti se c'è una familiarità come ad esempio oggi è molto studiato quello che può essere una mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2 se la paziente ha avuto delle precedenti neoplasie mammarie e poi sicuramente c'è un dialogo molto approfondito anche con quello che sono le paure e i desideri della paziente ovviamente non assecondiamo i desideri però ascoltiamo la paziente per cercare comunque di trovare una soluzione che sia efficace la chirurgia conservativa abbiamo detto che rappresenta il 75% degli interventi chirurgici qual è però il nostro problema la radicalità oncologica è la prima cosa che ci muove ovviamente il primo obiettivo da raggiungere però vogliamo dare comunque alla nostra paziente un esito estetico che sia piacevole ed accettabile e sappiamo che se asportiamo più del 20% del volume della mammella questo risultato non è effettivamente così soddisfacente perciò è nata la chirurgia oncoplastica quindi una collaborazione costante e continua tra il chirurgo oncologo e il chirurgo plastico e nel futuro probabilmente sarà il chirurgo senologo in grado di effettuare avere delle conoscenze sia di chirurgia oncologica che di chirurgia plastica perché noi alla prima visita della paziente dobbiamo già proiettare la paziente su quello che sarà lei tra due anni quando sarà guarita quando avrà finito tutte le sue terapie e ricomincerà a fare la sua vita quotidiana andando in spiaggia andando in piscina andando in palestra pertanto viene effettuato proprio una progettazione una pianificazione a lunga distanza viene studiato un disegno preoperatorio vengono posizionate le cicatrici in delle aree anatomiche specifiche che possono essere col tempo anche il meno visibile possibile perché la cicatrice è una cicatrice che comunque rimane che è un ricordo di malattia quindi se riusciamo a camuffarla a nasconderla il più possibile sicuramente daremo un buon servizio alla nostra signora ci sono alcune immagini che spero che non diano fastidio ma volevo condividere con voi quello che è il nostro lavoro di tutti i giorni la chirurgia conservativa ieri la prima immagine vedete che c'è un'area di minus quindi un buco lasciato perché una volta c'era comunque meno attenzione al rimodellamento della mammella oggi la terapia conservativa prevede sicuramente l'asportazione della patologia ma un rimodellamento contemporaneo della mammella di modo che la signora possa riprendere nell'immediato tutte le sue attività avendo un ricordo comunque lieve di quello che è stato la patologia il 25% degli interventi continuano ad essere interventi di mastectomie perché le caratteristiche della lesione ci impongono comunque questo tipo di intervento chirurgico abbiamo visto che la dottoressa Mariscotti vi ha elencato prima la patologia in situ che è una patologia comunque iniziale ma talvolta può essere molto estese quindi comporta comunque l'asportazione completa della ghiandola mammaria oppure delle patologie che si manifestano già avanzate quindi con un interessamento cutaneo oppure con un'estensione importante oppure anche quando la patologia magari non è particolarmente aggressiva non è particolarmente grosso ma il rapporto tra il volume del tumore e il volume della mammella è sfavorevole quindi fare un intervento di tipo conservativo non mi permetterebbe di lasciare una mammella degna di tale nome e quindi ci si rivolge comunque all'intervento di mastectomia le mastectomie ieri quindi con cicatrici molto importanti senza ricostruzione le mastectomie oggi questa signora è una paziente che ha dovuto subire una mastectomia con asportazione del complesso ralacapezzolo ha fatto una simmetrizzazione della mammella controlaterale noi vediamo queste immagini noi chirurghi diciamo bello è venuto bene i pazienti tante volte vedono queste immagini dicono sì bello però insomma perché il bello chirurgico non è sempre il bello del paziente tante volte abbiamo dei pazienti che vedi interventi chirurgi veramente ben riusciti ma la paziente ti dice non sono soddisfatta perché comunque l'impatto della patologia della mammella ti coinvolge a 360 gradi quindi è difficile comunque poter accettare anche dei risultati per quanto siano comunque belli e piacevoli abbiamo visto che oggi si ricostruisce anche la ricostruzione mammaria ha avuto una sua evoluzione siamo partiti dal non ricostruire da ricostruire in modo differito quindi ospedali diversi equip diverse oggi ricostruiamo con dei mezzi di sintesi che sono gli espansori o le protesi oppure con dei lembi autologhi cioè utilizziamo del tessuto proprio della paziente per poter ricostruire il volume della mammella l'oncoplastica ve l'ho citata prima il lipofilling è una tecnica accessoria che permette di rifinire il risultato e oggi si può anche pensare di ricostruire immediatamente nello stesso intervento chirurgico far uscire la paziente avendo ottenuto già il doppio risultato sia oncologico che ricostruttivo questo è l'espansore quello dove vedete piantato l'aghetto dentro che è quello che mi obbliga a fare due interventi quindi nel primo intervento inserisco questa protesi temporanea in un secondo intervento farò poi la sostituzione dell'espansore con la protesi definitiva oppure quando è possibile si inserisce immediatamente la protesi non è sempre possibile perché dipende dal volume della protese che io devo andare ad inserire questi sono i risultati a cui noi speriamo però non sempre è possibile e ripeto non sempre è bello anche per il paziente ci sono delle tecniche complementari che mi permettono di rifinire e finire il mio lavoro quindi con la ricostruzione del capezzo successivo tatuaggio dell'areola e l'ipofilling che vi ho citato prima ma il lavoro del chirurgo non finisce qua perché non ci limitiamo a trattare la mammella ma trattiamo anche l'ascella l'ascella per tutti quanti quando una lesione infiltrante viene asportato il linfonodo sentinella di cui avrete sicuramente sentito parlare che è il primo linfonodo che drena la linfa dalla zona della mammella quindi si dà come assunto il fatto che se il linfonodo sentinella è pulito tutti gli altri linfonodi sono puliti quindi è un'analisi che noi facciamo perché mi dà un indice della diffusione metastatica linfatica della patologia può essere ricercato con diverse tecniche o con un colorante vitale che mi fa diventare il linfonodo blu e quindi io chirurgo lo vedo e lo prendo oppure con tramite un tracciante radiattivo e quindi vado a cercare il mio linfonodo con una con una sonda che comincia a lampeggiare a far rumore quando mi avvicino al linfonodo abbiamo detto che siamo sempre più conservativi quindi quando è possibile facciamo il linfonodo sentinella in alcuni casi molto limitati purtroppo si deve ancora ricorrere alla dissezione ascellare la dissezione ascellare è l'asportazione completa dei linfonodi dell'ascella perché magari all'ago aspirato l'anatomopatologo mi ha già trovato delle cellule a livello del linfonodo che è stato bucato oppure perché appunto la dottoressa Mari Scotti radiologicamente mi ha già visto una scella interessata da malattia dal 5 al 25% dei casi può svilupparsi questa patologia che si chiama l'infedema del braccio che oggigiorno viene trattata in modo direi brillante dai nostri colleghi fisiatri e fisioterapisti e quindi anche in questo caso qua comunque ci sono gli specialisti che si dedicano a questo problema la chirurgia fa parte di un percorso che è integrato dopo la chirurgia seguono le terapie la terapia può essere fatta dalla radioterapia o dalla chemioterapia o ormonoterapia quello che mi preme sottolineare è che le pazienti che si ammalano di tumore dalla mammella devono essere trattate in centri dedicati nelle breast unit avrete sentito parlare di breast unit che sono queste unità di senologia dove trovate racchiusi tutti gli specialisti che si dedicano alla patologia quindi la paziente non deve più andarsi a cercare tutte le varie figure tutte le varie persone perché nel momento in cui lei entra c'è un percorso già predefinito la paziente che viene trattata nei centri di senologia nelle breast unit ha il 20% in più di possibilità di guarire quindi è veramente molto importante grazie allora grazie alla dottoressa Grils e si evincono alcune alcuni dati importanti che sono quelli che il trattamento deve essere non lo stesso per tutte le pazienti ma deve essere come si può dire cucito addosso a ogni paziente le pazienti sono diverse e anche i tumori sono diversi e non bisogna dimenticare alcuni dati che la chirurgia non è più l'unico trattamento come era 50 anni fa c'era solo la chirurgia e i risultati erano da un punto di vista della dell'impatto estetico devastanti perché fino a 50 anni fa si faceva solo la mastectomia una guariva dal tumore ma faceva una vita di relazione personale drammatica e quindi la chirurgia va vista in un contesto in cui entrano anche radioterapia come ha detto la dottoressa Grils e chemioterapia ormonoterapia cioè altri trattamenti non dimentichiamo che anche adesso con le tecniche raffinate di ricostruzione comunque il 20-30% delle pazienti non sono contente e questo è un dato di cui tener conto e ancora non deve spaventare qualunque tipo di intervento perché l'anestesia ha fatto negli ultimi anni passi da gigante e qui abbiamo la dottoressa Barbero anestesista che può testimoniare questo dato e praticamente quasi non esiste paziente che non possa essere sottoposta a intervento chirurgico arrivato a questo punto io spero che o finiscono i fogli o finisca la Biro perché già non riesco a capire a chi devo fare le domande ma la Galletti che è partita sicuramente alla grande ha alcune domande una signora scrive sono sempre stata troppo magra e va bene però pone l'accento su un periodo della vita che può cambiare anche questo dato e dice dopo la menopausa ho cominciato a ingrassare e solo nel giro vita nonostante mi trattenga molto nel mangiare questo giro vita non diminuisce e allora che cosa dobbiamo fare dottoressa Galletti certo era quello che parlavamo prima del famoso tessuto grasso bianco che è quello che ci danneggia per quello che dicevo soprattutto dopo la menopausa infatti è molto importante mantenere il peso ma mantenere anche la struttura corporea quindi non so se questa signora fa attività fisica ma fa bene bisogna anche bisogna vedere come si alimenta perché pur camminando molto allora guardi in realtà il nostro metabolismo cambia con noi ahimè ogni 10 anni si riduce il nostro metabolismo quindi quello che si potrebbe permettere di alimentarsi prima non è possibile e ogni diciamo dopo i 40 50 anni bisogna un po' lavorarci in tutti i sensi bisogna vedere su di lei come si alimenta e poi una componente comunque ormonale esiste per carità però se lei è normopeso e se lei è longilinea comunque non penso che ci sia uno stato di adiposo così evidente lei lo vedrà di più perché è una maga una longilinea quindi le risulta più evidente ma non penso che sia così importante diciamo come fattore di rischio il famoso 80 cm circonferenza vita che non è pochissimo quindi non credo che lei faccia parte di quel gruppo comunque mantenere un'alimentazione sana con ripeto con antiossidanti utilizzare dei grassi che sia solo olio di oliva ricordatevi l'olio di oliva extravergine deve essere un vero olio di oliva extravergine perché molto spesso cioè quegli economici diffidate che sia olio extravergine molto spesso veramente gli alimenti sono abbiamo dei claim ci sono dei messaggi che non sono reali e bisogna anche stare molto attenti anche negli acquisti è importante e cosa dobbiamo fare possiamo anche fare pesi possiamo fare pilates chiede una signora o dobbiamo solo camminare magari velocemente allora io mi capita molto spesso di avere persone che vengono anche nel mio studio il problema è che bisogna vedere come è abituata questa persona se mi arriva una signora obesa che magari ha più 60 anni non è mai andata in palestra è folle che io gli proponga di fare pesi o altre cose bisogna adeguarsi anche allo stato sarebbe ottimo la piscina per esempio io la sponsorizzo tantissimo innanzitutto perché viene un po' scaricato il peso ci sono diverse anche attività più o meno pesanti ma che hanno sicuramente una valenza anche dal punto di vista drenante linfatico pensiamo anche tutto il discorso circolatorio venoso che comunque coinvolge un po' tutte quindi anche quello fa parte un po' della prevenzione per cui attività fisiche confacenti anche allo stile di vita della persona stessa magari ci sono persone che viaggiano che lavorano tutto il giorno bisogna anche cercare di inserire l'attività fisica ma nel loro modo di vivere non posso stravolgerli la vita per cui io spendo veramente tanto tempo a parlare con le persone e capire come vivono perché deve entrare in un modo normale di vita non deve essere uno stravolgimento così come l'alimentazione bisogna un pochettino adeguarsi alle sue abitudini e poi valutare dove sta l'errore ma parlare secondo me la comunicazione anche del paziente ma in tutti gli ambiti specialistici è molto importante perché riesci a capire chi hai di fronte non sempre poi si esprime così liberamente anche in questo caso i foglietti per esempio sono un ottimo sistema perché ognuno dice quello che pensa che magari non oserebbe alzare la mano quindi è la comunicazione direi è molto importante sì io sono devastato e allora qui due domande ancora perché è meglio che la teniamo calda la dottoressa Galletti allora qui domande selettive ci sono studi sull'efficacia della metformina nella paziente non diabetica nella prevenzione ovviamente della patologia tumorale mammaria e poi ancora così ti prepari anche l'altra risposta consigli per un sano microbiota è sufficiente l'alimentazione allora sono due cose però completamente diverse allora la prima la metformina è un farmaco quindi va utilizzata da uno specialista vuoi il dietologo vuoi il diabetologo comunque teniamo conto che io non ho parlato di molte cose che andrebbero approfondite tipo la sindrome metabolica cioè l'iperglicemia o l'iperinsulinismo si parla di iperinsulinismo quando una persona è in sovrappeso o è obesa vera e propria per cui si ha una resistenza dell'utilizzo dell'insulina a livello periferico questo crea praticamente un'iperglicemia è una specie di circuito diciamo sempre più negativo che porta a un'ulteriore assunzione di zucchero un ulteriore aumento di peso ve l'ho fatta molto veloce quindi la metformina non è che va data in maniera libera va data quando è necessaria cioè quando ci sono le condizioni vuoi iperinsulinismo vuoi queste situazioni cliniche in cui è necessaria ed è vero che si utilizza anche non nel diabete ma anche nel sovrappeso nell'obesità ma va data dallo specialista non c'è una specificità nel capa mammello nella capa mammella il discorso è l'intoleranza glicemica correlata la resistenza insulinica correlata ok penso di essere stata chiara da questo punto di vista e invece l'altro è il microbiota è grande argomento il microbiota la cosa bella sarebbe fare tutti un bel dosaggio del proprio microbiota adesso non è ancora nella sanità pubblica non è un esame che si fa ancora rutinariamente ci stiamo lavorando secondo me nei prossimi dieci anni sicuramente lo avremo così impareremo a conoscerci noi abbiamo ognuno di noi ha un suo microbiota sono miliardi di batteri e quindi sono completamente diversi sono delle famiglie che si chiamano cluster con delle sottofamiglie che si chiamano fila che più o meno conosciamo quelli buoni quelli cattivi e cerchiamo di monitorizzarli e soprattutto di introdurre quelli più sani quello che posso dire in generale è che fare dei cicli di probiotici che poi sono fermenti lattici che sono famiglie e popolazioni più utili sarebbe sicuramente proponibile ma per periodi lunghi di tempo cioè farlo per due settimane per esempio non so mi capitava a pazienti che prendono l'antibiotico e i fermenti lattici insieme per 15 giorni non serve assolutamente a nulla per fare diciamo così un'integrazione una terapia con dei fermenti lattici che possono migliorare il proprio microbiota bisogna farlo almeno tre mesi negli ultimi congressi parlava di due ma adesso si sta estendendo a tre questo per dire quanta poca conoscenza c'è ancora anche fra di noi sia gastroenterologi sia nutrizionisti insomma varie figure che se ne occupano e quanto sia difficile capire dov'è la possibilità terapeutica quello che sicuramente è utile prendere dei probiotici più favorevoli che sono poi facendo degli esempi banali il bifido il lactobacilli di alcune specie eccetera banalmente nelle antichi c'era l'utilizzo dei lati fermentati o del kefir che è un probiotico naturale quindi già alimentarsi aumentando la quota l'assunzione di questi alimenti attenzione senza zucchero perché molto spesso li addizionano con lo zucchero potrebbe essere già un buon sistema senza prendere medicine senza prendere integratori dobbiamo un po' ritornare agli antichi in effetti erano molto saggi quindi la fermentazione naturale i cibi fermentati sono sicuramente una base di buona alimentazione di prevenzione e l'ultima domanda per la dottoressa Galletti che arriva proprio nell'ambito della multidisciplinarità dalla dottoressa Grils e la dottoressa Grils dice il pasto più difficile è la colazione a me viene in mente cosa dicevano visto che hai citato gli antichi ma io cito solo i vecchi a cui mi avvicino e dicevano colazione da re pranzo da principe e cena da povero e la dottoressa Grils chiede che cosa dobbiamo mangiare a colazione soprattutto tenendo conto che magari anche chi continua a lavorare ha dei tempi molto ristretti e tende a fare delle colazioni molto molto limitate non certo corrette specie nei giovani soprattutto perché noi magari di abitudine le persone in realtà la colazione la fanno abbastanza da quello che capisco un po' dalle anamnesi alimentari quello che conviene sempre sarebbe una quota di proteine e dei cereali meglio integrali però evitare magari la frutta perché sono zuccheri rapide molto spesso danno un senso di fame dopo un paio d'ore è una cosa che molto spesso rilevo nei pazienti quindi magari avere un'alimentazione più integrata anche salata perché no una colazione salata è ottima se non si ha problema del colesterolo per esempio cioè vedi che ogni persona ha un suo modo di mangiare cioè il problema è inserirsi nella loro vita cioè io magari posso dare un consiglio di mangiarsi due fettine di pane tostato integrale con una fettina di prosciutto magari una persona odia mangiare salata al mattino e dice non lo farà mai lo farà quei 15 giorni dopo la mia visita no bisogna inserirsi proprio nelle proprie abitudini allora per esempio prendere o dello yogurt e latte se piace con dei cereali integrali senza zurgo anche quello state attenti nella scelta perché adesso c'è una gamma pazzesca di prodotti ma bisogna sempre guardare che non siano addizionati di zucchero può essere un'alternativa come anche il caffè o il tè preso in misura adeguata va benissimo e magari fare un mini spuntino penso ogni tanto verso metà mattina che può essere due fettine di pane due grissini sempre zuccheri a lento è sempre meglio perché riducono meno il senso di fame post bene grazie c'è la dottoressa Mariscotti che scalpita dice a me nessuno fa delle domande e adesso avrà anche lei le sue domande la prima è semplice semplice in una mammella densa può sfuggire un tumore purtroppo sì nel senso come vi ho fatto vedere che il test che la mammografia ha proprio un limite nella mammella densa perché nella mammella densa come vi ho fatto vedere in quell'esempio la ghiandola la rappresentazione della ghiandola è tutta bianca in parole povere che sarebbe la densità e noi dobbiamo andare a cercare in questa l'eventuale patologia che è bianca densa quindi può sfuggire per cui l'integrazione con altre metodiche come vi ho spiegato l'ecografia la tomosintesi l'importante è di riuscire a ridurre questa densità e questa sovrapposizione delle strutture che impediscono che fanno sì che vengono mascherare proprio la patologia può sfuggire ma ci sono dei metodi quindi per che non sfugga non sfugga ma non è al 100% quindi ci sarà sempre una minima quantità di una parte di lesioni che non possono essere visti con i nostri strumenti va bene e un'altra signora dice io sono stato operato tantissimi anni fa come citavo prima quindi una quarantina di anni fa di mastectomia e adesso nell'altro seno ho molte calcificazioni mi devo preoccupare? allora bisogna vedere se queste calcificazioni da quanto tempo ci sono e come sono perché abbiamo l'80 al 90% delle micro calcificazioni sono quelle che noi consideriamo di tipo distrofico non evolutive ma ci sono ci sono alcune di queste micro calcificazioni che hanno una morfologia proprio più irregolare più indeterminata e pertanto su quelle noi dobbiamo focalizzarci per cui bisognerebbe vedere questa mammografia e soprattutto bisognerebbe vedere da quanto tempo ci sono queste micro calcificazioni la loro stabilità la loro e la loro estensione e logicamente in base a quello poi si deciderà se procedere con ulteriori indagini che sono normalmente le agobiopsie e lì interverrà il dottor Torchio sì è giusto un prelievo importante per quanto voglio ancora specificare per quanto riguarda le micro calcificazioni necessitano di prelievi importanti che sono prelievi che noi definiamo VAB ossia dei prelievi microistologici che vengono fatti quasi sempre sotto guida stereotassica e che permettono di prendere tanto materiale sufficiente al fine di fornire all'anatomo patologo la possibilità di differenziare se è una forma in situ se è una forma infiltrante o se è una banale iperplasia tipica ha già anticipato un'altra domanda di una signora che chiedeva dove si situa nella diangeli la tecnica del mambo Tom e la VAB che ha citato e la Mariscotti era la regina della VAB quando era città della salute speriamo di poterla ottenere ancora qui anche in fornata non so se la dottoressa Patti ci ha parlato con la dottoressa Patti stamattina e quindi il costo lei pensa che si possa sostenere? no comunque tutti sanno cos'è la stereotassi sì? perché la dottoressa Mariscotti ha parlato di stereotassi è di in no dieci secondi cos'è la stereotassi? allora la stereotassi è una metodica che è applicata alla mammografia che permette di andare a localizzare bene il bersaglio che noi vogliamo ossia che noi dobbiamo identificare che sono quasi sempre appunto queste micro calcificazioni o una minima distorsione se vengono eseguite delle proiezioni particolari a più 15 a meno 15 gradi si individua si individua il bersaglio su quello viene fatto un po' di anestesia locale e dopodiché si inserisce questo ago che è prevalentemente la VAB che fa come un orologio fa 12 prelievi consecutivi partendo dalle ore 12 ritorna alle ore 12 è un prelievo che si fa velocemente in una ventina di minuti la paziente esegue l'esame e può uscire dall'ambulatorio poi starà con noi soltanto una ventina di minuti con il ghiaccio sulla mammella ma non porta nessuna conseguenza comunque la stereotassi proprio per la localizzazione delle lesioni che non sono palpabili che si vedono solo esclusivamente radiologicamente ancora una domanda qui risponderò anch'io ma risponderà anche la dottoressa Mariscotti ho 80 anni sono sempre stata seguita da prevenzione serena vorrei sapere perché ora non posso più usufruire di questa preziosa possibilità nonostante l'età il pericolo di tumore continua a persistere questo è vero perché io ne ho operate anche di 93-94 anni e questo è grazie alle tecniche come dicevo prima di anestesia la dottoressa Patti va via perché così va a vedere se riesce a recepire i fondi per il labab e la ringraziamo per questo e anche dell'ospitalità ovviamente e no è vero il tumore è vero che ha età e tra i 50 e i 70 colpisce in maniera più frequente però è anche vero che anche dopo il tumore può può comparire mia madre diceva sempre ma perché deve capitare a quest'età 85-90 anni e dico ma perché deve capitare a 40 allora il problema non è quando capita è sapere di poter fare qualcosa però se tu vuoi dire qualcosa su protezione serenale a cui tu hai partecipato per anni certo allora lo screening è rivolto alle donne dai 50 ai 69 anni adesso c'è un'apertura anche dai 50 ai 69 anni con una cadenza biennale c'è un'apertura anche per le donne dai 45 ai 50 anni perché in questa fascia il tumore comincia già a crescere come già da 40 anni e in questo caso è con un controllo annuale per quanto riguarda le donne dopo i 69 anni quindi i 70 anni allora ci possono non c'è una chiamata per lettera come per le donne dai 50 ai 69 anni purtroppo devono essere loro stesse a chiamare la prevenzione serena il numero verde e dire io vorrei fare la mammografia in questo caso sarebbe come una una richiesta spontanea e viene messa viene considerata e pertanto la paziente può essere chiamata dopo gli 80 anni nella prevenzione quella è più problematica con lo screening anche perché lo screening ha una fascia immensa di donne da chiamare e quindi si focalizza più su questa fascia dai 50 ai 69 anni adesso ci sono anche le pazienti dei 45 ai 50 anni quindi la mole diventa sempre più ampia logicamente se una paziente che è sempre stata seguita dallo screening anche se ha 80 anni e se ha una buona aspettativa di vita se telefona a questo numero verde può essere introdotta a fare questo test altrimenti deve accedere se vuole la prevenzione può accedere anche alla diagnostica senologica clinica il problema dello screening mammografico è un problema economico è chiaro che lo screening è gratuito la mammografia è gratuita il tempo di intervallo di due anni è un tempo ragionevole perché il tumore è un po' più vivace diciamo che viene diagnosticato quasi dalla donna sente un nodulo e va a farsi vedere il tumore un pochino più torpido in due anni può crescere ma non così tanto io personalmente credo che si dovrebbero fare mammografia ecografia una volta all'anno sempre però questa è un'opinione personale che è chiaramente contestabile da un punto di vista economico questo è evidente e detto questo adesso tocca alla Grills anche se sono domande così un po' a cui possiamo vedere di rispondere un po' insieme una domanda molto tecnica dice questa paziente che sa di molti casi di tumore al seno in donne post allattamento 6-12 mesi proprio molti non so che se fossero veramente molti e allora dovremmo un po' preoccuparci però la domanda è una domanda particolare e dice può essere una concausa la non pulizia dei canali lattiferi e quindi non uno svuotamento dei dotti galattofori un tempo e questo è vero si svuotavano con bendaggi poi farmaci oggi come si può come si procedere si procede o non si fa nulla allora l'insorgenza di patologia della mammella di tumore della mammella correlata all'evento gravidanza quindi o insorgenza durante la gravidanza o insorgenza subito dopo la gravidanza è correlata con l'alterazione e il cambiamento di quello che è l'assetto ormonale durante questa fase specifica l'allattamento abbiamo visto che è un fattore di protezione ma lo svuotamento o non lo svuotamento dei dotti ha un'influenza inferiore rispetto a quello che invece è l'impatto del cambiamento ormonale e ancora passiamo dal post-allattamento alla menopausa una signora dice ho 68 anni dall'età di 55 sono in menopausa sono 13 anni che le caldane le cosiddette vampate mi accompagnano ogni ora della giornata tranne i 6 anni di terapia con cita i nomi dei farmaci usati posso usare i cerotti i cerotti intesi i cerotti ormonali si beh noi cerotti no perché oggi c'è cerotto di tutti i tipi tu non sei aggiornato ma al di là di questo faccio per sdrammatizzare ovviamente però c'è un problema che qui ci sono delle delle terapie comunque anche a base naturale che permettono comunque di aiutare questa problematica non si utilizza più gli integratori con la soia perché comunque sono dei precursori e degli stimolatori per quello che riguarda gli ormoni ma ci sono comunque dei prodotti naturali che aiutano a ridurre comunque questo effetto coralterale della menopausa e adesso possiamo fare rilassare la dottoressa grills perché queste sono domande queste ultime erano domande un po' particolari e non dimentichiamo che quando si parla di cerotti in genere i cerotti sono su base estrogenica e voglio dire continuare a dare estrogeni per molti anni non va così bene perché se ci sono dei focolai di tumore che possono essere sensibili alla stimolazione estrogenica e sono i tumori ormonodipendenti e qualche danno lo si può fare io però per sdramatizzare anche questo devo citare l'episodio di una signora 75 anni una signora 75 anni molto ben portati viene da me in consulenza portando gli esami di un tumore operato e io ho detto a signora questo tumore era ormono responsivo e dico signora lei deve fare una terapia antiormonale e lei mi ha risposto ma io non ci penso neppure perché io sto ancora prendendo degli estrogeni perché io sto bene così la mia vita è così e quindi io ho detto ma il rischio di una recidiva è un po' più alto e lei ha detto non importa per cui bisogna anche tener conto che un certo tipo di informazione può essere recepito dalle donne in un modo o in un altro questa signora voleva avere una qualità di vita per lei particolare e correva questi rischi però bisogna sapere che si possono correre questi rischi dicevo la dottoressa Grezza adesso si può rilassare perché qui ci sono domande più particolari per lei trattamenti estetici compresi cosmesi per tonificare il seno possono essere dannosi no non c'è alcun trattamento che possa favorire l'insorgenza di patologia alla mammella tanto meno anche gli interventi di chirurgia estetica con l'introduzione della protesi avere delle protesi non limita in alcun modo la dottoressa Mariscotti nella lettura della radiologica della mammella e quindi possiamo tranquillamente continuare a fare quello che stiamo facendo e non demonizzare neanche gli interventi di chirurgia estetica o l'utilizzo di protesi per estetica ci stiamo avviando verso la fine dei fogli e chiediamo alla dottoressa Gril se è possibile tenere l'espansore più di due anni prima dell'intervento di protesi allora l'espansore è una cosa temporanea una protesi temporanea che va comunque prima o poi cambiata non c'è una tempistica rigida entro la quale deve essere sostituito anche perché comunque la paziente successivamente all'intervento può essere sottoposta a terapie diverse che possono essere la chemioterapia o la radioterapia che dettano comunque dei tempi per ciò che riguarda il secondo step il secondo intervento ricostruttivo in cui sostituiamo l'espansore con la protesi definitiva possono comunque insorgere delle complicanze anche dal punto di vista generale o delle comorbidità che rallentano questo secondo intervento prima o poi va cambiato ma ci sono dei pazienti che hanno tenuto anche 4-5 anni e non è successo nulla grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti